Segnassi Portai, guarda Vini e Leo, hanno imparato stasera per voi, viaggio tra fede e povertà di Francesco D'Arsisi. Segnassi Portai, guarda Vini e Leo, hanno imparato stasera per voi, viaggio tra fede e povertà di Francesco D'Arsisi. Segnassi Portai, guarda Vini e Leo, hanno imparato stasera per voi, viaggio tra fede e povertà di Francesco D'Arsisi. Segnassi Portai, guarda Vini e Leo, hanno imparato stasera per voi, viaggio tra fede e povertà di Francesco D'Arsisi. Che tristezza, che delusione la vita! Prendimi tutti i soldi che erano! Non mi serve nulla, che un giallo me ne andrò! Ecco tutte le scarpe, solo i piedi ti darò! Lascia stare, guarda! Guarda il numero 1! E questo? Anche questo è roba mio! Oh, oh, oh! Ma che mi volete fare questa nera? Tutta è nuda! Vado, vado, ma io non sono né Marta, né Uppriata! Tua figlia ha scelto di vivere in piena povertà! Sono contento che vada a conoscere il Papa! Andiamo, andiamo! E di quattro piedi siamo! Andiamo, andiamo! E di quattro piedi siamo! Andiamo, andiamo! Nella nostra strada andiamo! Tito, chi sono quei poveri fedeleggi? Come ti chiami, figliano? Francesco, messere! Vengo da Sisi! Abbiamo deciso di vivere secondo povertà! Voglio dare un ordine e sono venuti al suo cospetto per farsi riconoscere la regola che intendono osservare! Dov'è quel piccolo uomo? E io è un piccolo! Francesco era solito predicare gli uccelli! Vengo da Sisi! 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 Guarda un po' questi uccellaci, sempre sporcare avanti alla bottega mia. Andiamo a vedere tuo figlio che sta parlando con gli uccelli. Sì, l'ho sentito io, merli, fringuelli, tordi e galline no. Oh, quanto mi dispiace per le galline, com'è schizzinoso, con le galline non ci parla. Loro invece ci inquietano, ma è come se parlassero, l'ho sentito io e non sono né matta né ubriaca. La modestia e la semplicità del poverello conquistarono subito la simpatia del sultano. Siamo stati fortunati che questi saraceni non ci hanno ammazzato. Ma sono la percorsi e presi i prigionieri. Chi sono quei pezzenti cristiani? Dicono che sono freddi, ma io non conosco il significato di questa parola. Mio signore, questi cristiani non meritano neanche il vostro ascolto. Non so come abbiano fatto a sfuggire alle mire dei nostri uomini. Francesco, le tue parole mi commuovono, ma troppi interessi mi obbligano a seguire il mio principio. Anzi, ti prego di ricordarmi nelle preghiere che farai a tuo Dio. Don Francesco, composti nel 1224 un cattico del donatore. E' una strada di mezzo, con l'acchino e spogli, un cattore di coscio che a loro non stai. C'è una strada di mezzo, con l'acchino e spogli, e le finale stelle. Fratello sole, e sole, tra l'una, la madre terra, con frutti, frati e fiori, Il vuoto il vento, l'aria e l'acqua pula, conne di vita, per il suo entri amore. Grazie.